E' stato spento dai vigili del fuoco di Sulmona dopo la mezzanotte di oggi un principio d'incendio su un autocarro che stava viaggiando lungo la statale 17. Per il conducente, che si accorto subito che qualcosa non andava, sono stati momenti di panico e di vera preoccupazione. Il mezzo viaggiava sulla strada statale 17 in direzione Sulmona e trasportava prodotti alimentari. All'altezza del distributore di benzina, Tamoil, nei pressi di Pettorano o Sulcizio, il conducente si è fermato ed ha allertato il centralino del 115. Sono arrivate sul posto due squadre di vigili del fuoco che hanno evitato il peggio domando il principio d'incendio che fortunatamente si è rivelato di lieve entità. La dinamica è ancora tutta da ricostruire ed è al vaglio della polizia intervenuta sul posto per i rilievi di rito. Un incidente di percorso per l'autocarro che poteva davvero trasformarsi in tragedia, ma fortunatamente, grazie al tempestivo intervento degli uomini del 115, così non è stato.